Crei un nuovo lavoro. Accedi ai dati generali di progetto e selezioni Quadro economico. Trovi lo schema previsto dal nuovo codice appalti. Decreto legislativo 36-2023. Grazie a Primus la compilazione del Quadro economico è in parte automatica. Infatti, i campi con i valori in grassetto richiamano direttamente i rispettivi importi dal computo. Puoi modificare liberamente lo schema proposto. Con la combinazione, Control più Canc, cancelli un rigo. Modifichi un rigo e ne richiami l'importo relativo rendendolo automatico. E con il tasto INS, inserisci un rigo prima del cursore. Una volta redatto il computo metrico. Ed effettuata la stima dei costi della sicurezza. Nel Toolbox struttura visualizzi l'importo a misura, quello a corpo, la sicurezza speciale e quella inclusa nei prezzi. Tornando nel quadro economico, trovi i suddetti importi già compilati. E se apporti modifiche al computo metrico, questi verranno costantemente aggiornati. Buon appetito! Buon appetito! Grazie a tutti.